eccoci qua parliamo un po di formula 1 c'ho molti video arretrati lo so pagine del gran premio allora max versta per voto 10 la gara condotta in carrozza superiorità già evidente dalle libere però quest'anno sì c'è gap ma non come l'anno scorso e questo ne accresce i meriti poi veniva da un ritiro riprendere la normalità non era facile non ce l'ha abituato quindi diamo il massimo nei voti se il dio per foto sette e mezzo una buona gara secondo posto che è la sua dimensione per se un pilota che ha sempre da perdere perché non ha praticamente speranze contro restate ogni piccola defiance è destinata a subire critiche ieri ha fatto bene avendo un discreto inizio di stagione quindi un sette e mezzo più che meritato veniamo alle altre scuderie allora parliamo della williams un disastro è stato un disastro questo weekend prima il botto di sergeant nelle libere sergeant prende cinque solida gara anonima basata sul nulla da un fuori pista che in gara quindi albo quattro e mezzo perché causa lui l'uscita di l'incidente con ricciardo praticamente ricciardo che gli vuoi dare gli diamo un cinque politico perché si completamente incolpevole in gara ma il giapponesino gliene sta suonando e questo è un gran bel dire guagno giù cinque anche per lui che completamente anonimo cinque più per bottas che qualcosa ha provato a far vedere ma niente di che cinque o con le gas li qui il cinque più alla macchina che a loro due perché sono due buoni piloti assolutamente hanno dimostrare quando ha avuto una buona macchina erano quasi sempre a punti quindi è un cinque che va più alla macchina che a loro malus e cinque e mezzo che lui discreta e performance va sempre dietro il suo compagno di squadra ulkenberg 6 ulkenberg è sempre lì ai margini della zona punti non guida un missile e lo sappiamo però la sufficienza la merita lanstro 5 prima gara ciccata dell'anno e ci sta abituando troppo bene il signor lanstro fermando alonso sei e mezzo niente e questo il suo lo fa sempre il suo lo fa sempre questo qua 42 anni e adesso cominciamo ad andare ai top team piastri oscar piastri voto sei anzi sei più va non vorrei si stesse non risizzando anche lui che dopo incoraggianti prove anche lui si è un po appiattito un po più conservatore in attesa magari di avere una macchina che per formi meglio che punti più in alto ma al momento è appiazzarsi appunti e basta lando norris 7 meno lui promette tanto ma poi verso fine gara si è si è qui sa sempre dopo il primo sin si è completamente qui stato non ho fatto caso sono sincero dove rientrato dopo il primo pit stop ma poi non è più stato in grado di recuperare però mi piace che questo ragazzo comunque quando può lotta e tiene le posizioni alte ha fatto un buon quinto posto e adesso veniamo ai big russell punto 6 come piastri e norris più o meno questo è un altro che prometteva tanto ma alla fine viaggia di conserva luis emilton 5 5 più va ma più giusto perché andata a punti e io mi continuo a ripetere ma che scelta del cazzo abbiamo fatto oramai questo è in chiara fase calante questo qui io quando parlo di luiz emilton perché non penso alla mercedes pensino più a lui e non credo proprio non lo so l'impressione che abbiamo fatto la cazzata del secolo è molto forte e allora e adesso veniamo a noi e adesso veniamo a noi Carlo Sainz voto 8 risultati alla mano è il leader della Ferrari piaccia o meno risultati alla mano questo adesso è il leader della Ferrari e lo stiamo mandando via e lo stiamo mandando via chiaro che non è un campionissimo però vi posso dire una roba per me dopo Barrichello perché Barrichello era forte ma a parte tutto dopo Barrichello per me la migliore seconda guida della Ferrari abbia mai avuto e francamente lo stesso Irvine che arrivò a sfiorare il mondiale ma più per disgrazie altrui che per meriti suoi per me non era l'altezza di Sainz ecco lui e Barrichello sono molto simili perché Rubens Barrichello in Ferrari ha avuto solo l'immane sfortuna di trovarsi quel mostro in squadra perché io sono convinto che con quella Ferrari e senza Schumacher ma con un pilota nella stessa scuderia di pari livello di pari livello Barrichello per me uno o due mondiali li avrebbe vinti e Sainz è molto simile per questi punti di vista Barrichello era più talentuoso Barrichello sul bagnato era fortissimo ecco Sainz non è a quei livelli Barrichello c'è ancora qui la vittoria in Germania fu fantasia fu una vittoria veramente alla Senna che fece quel giorno lì un po' di fortuna con l'invasione di pista ma l'ultimo stint di gara fu memorabile fu da leggenda ecco Sainz non è a quei livelli regolamenti diversi Formula 1 molto diversa sicuramente però tolto barichello tolto barichello veramente forse bisogna risalire a Gilles Villeneuve nel 79 per trovare una seconda guida così forte più forte di Sainz forse bisogna risalire a Gilles Villeneuve nel 79 ed è un peccato veramente un peccato lasciatemi perdere la stessa linea risposta a me me frega da la pista guardate Charles Leclerc Charles Leclerc sapete che sono non è facile dare il voto a Charles Leclerc questo weekend perché se devo giudicare la gara e allora merita lo stesso voto di Sainz perché ha fatto una cosa grandiosa con le gomme gialle ad allungare così tanto il primo stile d'accordo che la Ferrari quest'anno tratta meglio le gomme però ci vuole anche il manico Charles Leclerc ha fatto un garone per quello che mi riguarda se penso alla gara e devo dargli 8 come Sainz se poi ci metto in mezzo l'intero weekend devo dargli 8 o meno 8 o meno perché non puoi farmi quella qualifica non gli posso dare 7 e mezzo perché per me sarebbe troppo poco perché ha fatto una grandissima gara Charles Leclerc devo fare Monblano non lo so come i voti di Monblano devo fare magari gli do un 7,78 o 7,81 non lo so come fa Monblano con la Juventus gli do 8 o meno così siamo un po' più un po' meno commedia dell'arte dai è un voto alla Scuderia Ferrari che voglio dare in questo inizio di stagione gli do un 7,5 perché questa è una macchina è una squadra che sì abbiamo rimesso un po' in qualifica ma come dico sempre io la qualifica non dà punti è anche una seconda fila potrebbe essere tanta roba quest'anno però vedo finalmente come quelle nuvole di negatività che alleggiavano da troppi anni diciamo dall'addio di arrivabene fino all'avvento di Vasseur l'epoca Binotto diciamolo non ho nulla contro Binotto uomo persona ci mancherebbe altro però non lo so da esterno giudicare in maniera lombrosiana non mi dava tutte queste rassicurazioni ora con Vasseur con questo sguardo furbetto ma i progressi si vedono anche in pista erano già evidenti nella seconda parte della scorsa stagione i progressi quest'anno quest'anno abbiamo il gap con Red Bull si è ridotto è ancora quasi incolmabile ma si è ridotto e questo non può che farci piacere lo so qualcuno mi commentava eh ma la mediocrità la mediocrità amico mio da 2007 sono già di sono già 17 anni di vacche magre con questo diciamo che a Vincere non ci sei più abituato da un pezzo e quindi ogni nel deserto ogni goccia d'acqua è un bene di Dio quindi torneremo a vincere fosse rimasta questa coppia un pensierino ce lo facevo perché prima o poi finirà finirà anche per Red Bull prima o poi però temo temo abbiamo fatto una grande puttanata per l'anno prossimo e lo temo e lo temo di brutto Lewis Hamilton per me è uno dei migliori piloti della storia uno fra i due o tre migliori di sempre fra i piloti terrestri terrestri poi ci sono gli extraterrestri diciamo che Lewis Hamilton per quello che ha fatto in carriera in una ideale classifica dei piloti ribadisco terrestri non ho visto Fangio per ovvi motivi non ho visto Jackie Stewart non ho visto questi campioni però ho visto Prost ho visto Lauda l'ultimo Lauda ho visto e diciamo che lo collocherei Lewis Hamilton poco dietro questi qua i Prost e i Lauda non mi permetto di giudicare ribadisco Jackie Stewart non mi permetto di giudicare Emerson Fittipaldi Manuel Fangio non li ho visti e non mi permettono di giudicare di quelli che ho visto io Lewis Hamilton fra i terrestri lo colloco dopo Prost Lauda questi qua poi ci sono gli extraterrestri il tedesco il brasiliano il tedesco più anziano non l'ultimo il tedesco il brasiliano sono gli extraterrestri che inarrivabili per chiunque secondo me però su su arrivo i Ferrari veramente spero tanto di sbagliarmi spero tanto di sbagliarmi ma secondo me abbiamo fatto una grande puttanata e ribadisco chi parla di questioni di sponsor per Sainz eccetera eccetera sicuramente avrà i suoi motivi anzi forse ne sa più di me anzi sicuramente ne sa più di me però io mentre quando parlo di calcio parlo anche con un minimo di con un minimo di conoscenze in più la formula 1 parla il semplice tifoso e ragiono un po' a sensazione non vorrei avessimo fatto una puttanata veramente e questo lo ripeterò sempre per sempre perché come ho detto nel video se Hamilton fa Hamilton e perdi Leclerc perdi Leclerc forse definitivamente perché poi questo assumerebbe lo status di seconda guida e lo perdi se Hamilton non fa Hamilton e allora sarà un flop colossale non lo so iscrivetevi al canale e tra poco si torna a parlare di calcio di calcio di calcio